ciao a tutti carissimi amici di youtube allora anche per il wiko esiste lo strumento appunti e adesso vi faccio vedere qual è fra tutte le icone delle applicazioni che avete sul vostro wiko quella che serve per creare dei file di appunti e questa qua esattamente questa keep questa icona a lampadina sul sfondo arancione cliccando su questa vi si aprirà la possibilità di creare degli appunti dei file di testo che possano appunto fungere da appunti spero di esservi stato utile al prossimo video tutorial ciao